Allora, vincitore di questa gara 2 dell'IMX2, Michele Torezin, intanto una in saccoccia quest'anno. Sì, dai, sono stato contento. Era partito secondo, poi Peruk ha commesso un errore, ha fatto spegnere la moto su una curva, e così mi ha reso la vita più facile, ecco. Sinceramente non pensavo di tenere bene così, perché sono un po' giù di allenamento, però sono contentissimo, guarda, non ci credo neanche. Ho visto lì che poi ti è arrivato sotto Riccardo, ma tu hai saputo reagire, quindi hai fatto un buonissimo finale e andavi molto forte. Sì, vedevo Riccardo avvicinarsi, pensavo mi prendesse, però so che anche lui non è al top, perché ha avuto da poco un infortunio, e quindi ho provato a tenere duro e è andato bene. Beh, adesso ci prenderai il gusto, no? Speriamo! Complimenti, ciao! Grazie!